Come ha insegnato alla mia cucciola il dai la zampa, dunque questo è uno degli esercizi più semplici che ci sia da insegnare. Per farlo ci basterà prendere un premietto e chiudere la mano. A questo punto andremo ad avvicinarla al nostro cane, che sentendo l'odore del premio cercherà in ogni modo di farcela aprire utilizzando il muso oppure la zampa. È proprio quando cercherà di aprire la nostra mano utilizzando la sua zampa che dovremo aprirla e lasciargli prendere il premio. Ripetendo la stessa procedura diverse volte e associando il segnale vocale zampa ogni volta che la utilizzerà per farci aprire la mano, imparerà questo semplice esercizio in un battibaleno.